Diversity e Inclusion Diversity e Inclusion, che cosa intendiamo? Diversity e Inclusion quest'anno è tra gli obiettivi anche miei personali e di tutta l'azienda. È un piano che vuole essere fattivo di un percorso in realtà lungo decine di anni. Diversity e Inclusion per noi significa un processo concreto che si sintetizza in un acronimo che è REAL, per cui un processo reale, che parte dal reclutamento, che fa molta attenzione all'engage, per cui la R sta per Recruit, la E sta per Engage, quindi coinvolgimento, sviluppo di un senso di appartenenza in azienda. A che significa Advance, per cui lo sviluppo di una leadership capace di governare il miglioramento dei livelli di DNA in società e L che sta per Lead, perché siamo un'azienda primaria a livello internazionale nell'abito del settore dell'asset management e di conseguenza sentiamo una grandissima responsabilità anche di benchmarking da parte degli altri, per cui la nostra eccellenza naturalmente deve essere uno spunto anche per tutti gli altri. REAL!